Il comune di Pinzolo è accaduto fin dai primi momenti sul progetto Family e una delle iniziative virtuose che il nostro territorio ha sposato è proprio quella della sentieristica Family partita sul nostro comune, poi è allargata al parco, alla nostra APT quindi si è allargata a macchia d'olio sul territorio dell'Alta Rendena ma anche delle giudicarie oggi abbiamo svolgato questo accordo con soddisfazione perché molti anni fa è partito tanto lavoro di mappatura, di verifica, di controllo e di realizzazione di tanti sentieri perché non da ultimo il sentiero che abbiamo chiuso l'anno scorso, il sentiero sbaglierato che da Patascos porta al lago di Nambino, un bellissimo posto, oggi è accessibile a tutti la sentieristica Family che è diventata anche una sentieristica accessibile a tutti col grande tema della disabilità, quindi una soddisfazione, una sinergia e una coesione fra tanti enti del Trentino, il sociale, col turismo che lavorano ben assieme tutti i parchi che siglano l'accordo e quindi un accordo di sistema Trentino che è il primo in Italia che vuole essere veramente un protocollo da poter spendere sul territorio ma anche da poter far vedere con un occhio così di riguardo a tutto il mondo italiano che parla di famiglia, di disabilità in un momento tanto importante per quello che è l'aspetto sociale.